Salve a tutti ragazzi sono Sanfremomenzo benvenuti in questo nuovo video sul mio canale buona domenica ragazzi siamo tornati qui con un nuovissimo episodio della carriera allenatore con il Leeds signori come state un'altra settimana si sta per concludere ed è stata una settimana piena veramente pienissima di video perché perché lunedì scorso è uscito un episodio delle vostre carriere allenatore perché venerdì è uscito un video dedicato alle mie carriere allenatore segrete perché ieri è uscito un nuovo episodio della four years challenge quanta roba è uscita lo so che magari fate fatica a recuperare tutto anche gli scorsi episodi della carriera con il Leeds ma vi ricordo che trovate tutto sul canale sto inoltre preparando il nuovo road to victory quindi tanti altri contenuti arriveranno sul canale oggi signori episodio molto importante perché ci andiamo a giocare la finale di carabao contro il celsi poi andremo avanti in fa cup abbiamo il liverpool in campionato continueremo la champions league quindi questa carriera sta proseguendo e nel video di venerdì c'è un piccolo spoiler per quanto riguarda il nuovo progetto ma ne parleremo più avanti perché prima di cominciare ragazzi come al solito vi ricordo che questi video sono sponsorizzati da sei calcio il sito dove acquisto le mie magliette per fare i video come questa qua che indosso dell'eats o come quella che indosso solitamente dell'eats ragazzi quella bianca fantastica e dove ho comprato anche quella del mio amato arambarri benedetta quella volta che l'ho acquistato ovvero quella del getafe ragazzi con lo sponsor tecnocasa con arambarri scritto dietro tutte le info sono in descrizione ragazzi come il codice mezzo avrete un piccolo sconto le maglie ovviamente sono delle repliche ma sono di ottima qualità di ottima fattura se acquistate due maglie c'è una gratuita quindi tutte le informazioni in descrizione fate un salto sul sito perché ci sono non solo magliette anche tute pantaloncini quindi potete acquistare un sacco di cose se volete fare un acquisto anche con i vostri amici mi raccomando ricordatevi di utilizzare il codice sconto mezzo perché vi dà un buono sconto quindi mi raccomando ragazzi in descrizione ora possiamo cominciare questo episodio noi siamo pronti per questa partita sinceramente non so se avete notato che c'è gelart che potrebbe diventare il capo cannoniere di questa coppa e quindi sinceramente lo farei giocare titolare gli darei un po di fiducia per questa partita ci portiamo dietro chic e isaac se l'unico cambio che farei vi dico la verità è comunque una finale raga magari facciamo giocare i mucchieri al posto di montiel e basta dai facciamo così ragazzi andiamo in campo così dunque sempre sul pezzo e forza lezzi united ok siamo usciti molto bene devo dire dalla pressione del celeste intenziale perché rizzo può prendere campo sua day in iran al centro roberts servito tylerone militaula rimette in mezzo a day nera nei due metri attenzione a rambarri da casa sua colpito e der militao ancora rambarri roberts samerville prova a girarsi c'è cante su di lui non è facile la mette in mezzo morbida ancora der militao ragazzi ma ci siamo ancora con richards e la tira la sul monte fuji pallone irrecuperabile comunque ragazzi giochiamo proprio come lez vero difendiamo con due difendiamo a due abbiamo abbiamo creato il vero liz tanti gol tanti gol subiti ma il modo di giocare è similissimo infatti quando perdiamo questi palloni in creazione di gioco siamo nella cacchetta occhio berardi perché se ne va richards c'è zaccaria però che interviene molto bene berardi facciata per terra ma che calcio d'angolo è baggatissimo occhio summerville occhio summerville ragazzi perché prende campo curtney summerville curtney summerville attenzione a curtney summerville è partito è partito non lo prendi eh non lo tieni no 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 e no mi rifiuto mi rifiuto di perdere questo pallone arambarri attenzione tyler di là vai mucchi mettila bene morbidissima sè sè 1 a 0 lez che gol abbiamo fatto vai abbracciare summerville va là che è morente si è fatto una corsa di 150 metri 1 a 0 che gestione di palla ragazzi nei momenti difficili era raffigna quello non era roberts bravissimo mucchi ele poi a darla così morbida a tylerone roberts che sblocca questa finale è 1 a 0 white rambarri la recupera su cantè mamma mia che giocatore rambarri filo tyler roberts filo ancora roberts c'è il taglio per gelart non so perché stavo per dire gelart e la palla di ritorno è sbagliata occhio da averts c'è il bug oddio però ha avuto un soffio al cuore il bug del minuto di recupero finisce col primo tempo ragazzi con il lez in vantaggio per 1 a 0 grazie a un grandissimo gol di tyler roberts occhio a questa azione del celsi con averts mamma mia ragazzi no ci siamo resi conto dell'intervento che ha fatto zaccaria cioè abbiamo compreso tutti dell'intervento che ha fatto zaccaria o abbiamo bisogno di rivederlo al var perché ragazzi è un intervento maestoso un intervento maestoso guardate come siamo usciti dal pressing del celsi attenzione a gelart che è passato e della militao secondo me con un fallo sinceramente perché quello era senza dubbio fallo no 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 melie melie con un vero miracolo eh ho capito però bucchiele che non riesce a saltare su su averts mamma mia bucchiele è saltato un centimetro un centimetro melie aveva fatto una parata incredibile fai una parata buona poi subito te la devo mettere allora bucchiele ha una resistenza che fa ridere quindi vai con montiel isaac ti ho visto carico a posto di gelart una pazzia una pazzia di arambarri una pazzia di arambarri ok dai ragazzi dai siamo nel recupero c'è ancora margine per fare un'azione pericolosa attenzione a raffigna dall'altro lato eh ci ho provato ragazzi ci ho provato niente niente mi sa che si va ai supplementari credo o direttamente i rigori non me lo ricordo ah supplementari ok supplementari abbiamo un'altra mezz'oretta però abbiamo un po' smesso di giocare comunque werner ma ha rotto veramente le palle spero proprio di alzargli la coppa in faccia perché veramente guarda werner è odioso odioso su questo fifa odioso forza isaac forza isaac eh ma come fai ma come fai ma chi è quel difensore che mi ha mangiato totalmente cioè werner è odioso perché non solo è fortissimo uno dice vabbè è fortissimo basta ti prego Mellier ok Mellier continua ad uscire puoi prenderla anche con i piedi ti prego eh ma questa è la questa è la è la programmazione questa è la programmazione che fa ridere non è che dice eh vabbè è fortissimo su questo siamo d'accordo attenzione Roberts ha anche buco del culo ha anche buco del culo guardalo di là ti prego Summerville Mendy 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 mettiamolo Catelli al posto di Aaron Barry io toglierei anche Summerville vi dico la verità io toglierei anche Summerville vi dico la verità non credo di poter fare un altro cambio si mettiamo te te dai che parata di Mendy che partita però ragazzi divertentissima sono un po' in ansia ragazzi sono un po' in ansia sono un po' in ansia sono un po' in ansia loca dai porca miseria mi sono schiantato contro De Vrij dai mannazza la miseria non sono riuscito a fare uno scambio pulito dai ragazzi che sono stanchi anche loro non solo noi Raffi mannazza sempre che colpisco qualcuno mamma mia sempre sempre ma una volta che gli passa sotto le gambe che godo dai che è quello il movimento Isaac dai Isaac che è quello il movimento dai Isaac che è quello il movimento il movimento di Isaac è 2 a 1 lits al centoquindicesimo movimento perfetto di Alexander Isaac è 2 a 1 lits gran palla recuperata ho atteso il movimento era quello ragazzi era quello che doveva fare Isaac infatti all'inizio è stato un po' lento poi Raffi ha aspettato il momento giusto ma ci sta ragazzi sono stanchi anche loro vedete ho aspettato tanto 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 bene così si gode ha è lunga è lunga è lunga signori il lits vince la Carabao si e batte il celsi 2 a 1 e andiamo con un gol di Isaac al cento sedicesimo eeeh eeeh cosa dici Pulisic? si potete provare il prossimo anno forse fino adesso fino adesso fino adesso è roba nostra e quindi il nostro Capitan Phillips alza un altro trofeo l'ennesimo trofeo grande Capitan Phillips e andiamo ragazzi e andiamo si gode si gode e si stragode mamma mia mamma mia beh devo dire alla fine vittoria meritata siamo stati molto più pericolosi anche perché considerate che il celsi ci ha pareggiato e ha fatto tre occasioni il primo tiro parato del magliee e quello successivo valgono come due quindi il celsi ha veramente fatto poco in questa partita siamo stati noi dominanti sarebbe stato davvero un peccato arrivare ai rigori perché meritavamo di portarci la casa prima e così è stato bene ragazzi bravi 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 adesso però vedete non c'è neanche il tempo di festeggiare in Inghilterra è così non c'è neanche il tempo di festeggiare perché adesso abbiamo due giorni tra l'altro cambio anche il programma settimanale abbiamo due giorni nel quale nei quali ci riposiamo un po' e non solo perché dobbiamo fare il turno 5 contro il Tottenham due giorni dopo abbiamo il Liverpool in campionato quindi roba forte roba veramente veramente forte tra l'altro Tottenham che si presenta con la squadra titolare io farei riposare Roberts farei riposare Roberts e di nuovo Gelart farei riposare Phillips vai con Locatelli metterei tete da titolare ma mi porterai dietro Poveda lo farei giocare oggi Poveda andiamo con Pau Torres al posto di Zaccaria che è il più stanco potremmo provare anche un Shackleton dai potremmo provare anche uno Shackleton andiamo con questa formazione ragazzi andiamo in campo così sempre sul pezzo e forza Leeds United coq coq cos'è andato a riprendere coq cos'è andato a riprendere attenzione Romagnoli non lo tiene già l'arta al centro non ci arriva Shack incredibile attenzione perché Shack ci può riprovare se avete sul destro nulla da fare ho sbagliato io qui la finta porcaccia la misera che fallo ma che fallo ma quella bandierina ma sai che che pazienza madonna ti do una shtecca bravo Pau Torres da casa sua mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia da casa sua Arambarri da casa sua è uno a zero Leeds oh finalmente non ha colpito qualcuno o finalmente ha colpito nessuno mamma mia Arambarri non è da casa sua però insomma è un modo di dire perché sapete che quando Arambarri ha fatto quel gol clamoroso col Getafe il telecronista disse da casa sua mamma che gol che sberla che ha tirato Arambarri grande maurone ah però Shack con questa classe me lo dici mamma mia però ragazzi Shack c'ha c'ha una classe devo dire niente è male eh no era tutto buonissimo Ioris fa un miracolo che palla di chic ma sai che Shackleton comunque oh zitto zitto complimenti è il primo tempo che si conclude qua siamo in vantaggio 1 a 0 grazie che bella è la maglia di Mellier comunque 1 a 0 grazie al gol di Arambarri nooo raga avete visto Mellier? stavo tenendo premuto il triangolo per farlo uscire avete visto Mellier? stavo tenendo premuto il triangolo per farlo uscire ragazzi cioè guardate il movimento che ha fatto Mellier programmati bene mi dicono io mi immagino lo ripeto perché voglio voglio rendere bene l'idea mi immagino che loro si tirino giù i pantaloni e le mutande sbattano il culo sulla tastiera sbattano il culo sulla tastiera si girano e dicono come l'abbiamo fatto col culo occhio perché qua mi prendono un po' alla sprovvista Bergwijn se ne va a Shackleton che la mette in mezzo Mellier capisce tutto questa volta bravo devo dire che questa è una bella uscita ok loca il problema è che adesso siamo sempre noi due qua davanti si fa vedere adesso Tete anche servito Tete sulla corsa ce l'ha sul mancino attenzione Tete lo prova giro palo palo pieno di Tete bravo Pau Torres mamma mia Tete poi Gellart una finta però da andarsene ma non è facile andarsene a Varane devo dire per Gellart deve essere molto dura quest'oggi Summerville c'entra Poveda facciamo giocare Oniek al posto di Arambarri più che Gellart andrei a togliere Sheik perché comunque la parte fisica è anche un po' rapida io in una copia d'attacco la voglio sempre bravo mamma mia questi interventi mi fanno gasare tantissimo fuori gioco ma come fa ma come fa non essere mai fuori gioco mai occhio occhio bella 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 mannaggia mannaggia la miseria oh bellissimo gol del Tottenham bellissimo alzi la mano che pensava che intirasse senza dubbio per quello ero tranquillo perché Koch aveva recuperato bene gran palla gran palla gran palla ok 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 nooo l'avevamo fatto bello l'avevamo fatto bello con povedigno l'avevamo fatto bellissimo con povedigno raga altri supplementari non è per niente faticoso questa situazione non è per niente faticoso questa situazione Gellart? Isaac? mmm mannaggia te il tuo tacchino eh? eh? Onik Gellart Isaac è caduto Gellart è caduto stava facendo pattinaggio sul ghiaccio ha fatto una figura lì così mitologica zio prete tete cosa dici? saltino in panca? vai raffi io oggi volevo farvi vedere 5 partite mi sa che ne vediamo 3 ragazzi cioè sinceramente non mi aspettavo di andare a fare due tempi supplementari dai raffi dai raffi ma 93 per cosa se non salti il sessegnon oddio ti devi togliere Gellart ti devi togliere Gellart Gellart unica mmm 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 ooooooo è sempre Isaac 2 a 1 è sempre lui è sempre lui tra parentesi tra parentesi voi vi chiederete perché non hai tirato compo veda e io vi rispondo perché non mi ero accorto di essermi avvicinato così tanto ho guardato solamente il movimento di Isaac ve lo giuro ragazzi ve lo giuro guardate compo veda forse ero molto effettivamente molto defilato ma ho guardato solo il movimento di Isaac ragazzi ho guardato solo il movimento di Isaac ho guardato solo il movimento di Isaac solo ed esclusivamente quello quindi io adesso non ti posso cambiare vero? infatti ho usato le sostituzioni immaginavo ma magari va bene va bene va bene va bene va bene va bene prendi e porta a casa ma Gellart però non ha mollato un centimetro ragazzi non ha mollato un centimetro poveda bravissimo anche poveda bravissimo anche poveda che si merita il 3 a 1 povedigno al 116 partita chiusa il Leeds passa il turno è 3 a 1 è 3 a 1 povedigno l'avete mai sentito lamentarsi una volta poveda? mai è cresciuto ha giocato si è tolto le sue piccole soddisfazioni non è sicuramente stato un protagonista di questa carriera allenatore ma c'è sempre stato ed è un ottimo giocatore qui gran pala di Gellart bravissimo poi a insaccarla alle spalle di Ioris Leeds che prende il largo signori e si guadagna la qualificazione si Parrot si 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 ci puoi riprovare anche la prossima volta se vuoi finisci qui signori finisci qui finisci qui 3 a 1 a totteno mamma mia oh che episodio strameritato grande partita che bello poter mettere in campo le seconde linee e non pentirsene avere seconde linee di grande livello ragazzi questa carriera è stata costruita davvero davvero molto bene su tutti i fronti abbiamo una squadra incredibile in coppa in fk rotter che squadra è quella rotterham si chiama rotterham si rotterham united va bene di c'è ancora il Chelsea c'è ancora il Manchester City noi abbiamo eliminato il Tottenham ma adesso andiamo a giocare questa partita contro il Liverpool cambiando ovviamente ovviamente la maglietta no aspettate un secondo ma voi volete stare con questa e noi ci mettiamo questa dai visto che ce l'ho addosso vediamo un po' come gestirci io non posso stare senza Montiel ragazzi mi dispiace ma Muchiele subentrerà nel caso Montiel mi da quel qualcosa in più farei giocare Guay oggi farei giocare Guay forse una pazzia ma penso se lo meriti però mi fido mi fido andiamo così ragazzi sempre sul pezzo e forza Leeds United dai che è nostra bravo Montiel mamma mia che classe che classe e come si libera del pallone attenzione perché Montiel contro Hernandez non è cliente facile ma Montiel corre mamma mia Montiel mamma mia Montiel mamma mia Montiel fino al fondo Montiel una finita prova di andarsene cioè gli l'abbiamo regalata mamma mia bravissimo Montiel bravissimo Robby Raffi guarda il taglio di nuovo perfetta questa palla per Roberts attenzione perché è un po' defilato Roberts può provare comunque il destro Franco Armani grande parata vai Schick attenzione perché se ne va così a Virgil van Dijk è un euro goal quello di Patrick Schick signori è 1 a 0 Leeds United con Schick che mostra il pacco alle tifose del mi dissocio assolutamente da questo gesto Patrick Schick ma chi te l'ha insegnato mi scusi Patrick Schick va bene che con il gol che hai fatto puoi permetterti di fare tutto ma mi dissocio assolutamente da questo comportamento cioè gran gol ragazzi da parte gli scherzi gran gol veramente andarsene così a van Dijk non è da tutti è da Patrick Schick però dai ragazzi è il momento di sfruttare questo momento perché il Liverpool ovviamente si è aperto come una cozza si è aperto come una cozza Cray Sensio Summerville dubbiamo? dubbiamo? non è un dub questo fa lo stesso fa lo stesso ma ci piace lo stesso attenzione a Mohamed Salah c'è Omar Richards su di lui ciao ciao mommy che miseria iorente finisce qui su una grandissima stecca di Richards finisce qui il primo tempo occio occio perché ma ne corre ma anche Montiel dagli la stecca va bene va bene è giallo è giusto è giusto non mi sto lamentando non mi sto lamentando sono tranquillo ma ne se n'era andato è giusto steccarlo palesemente oppa vorrei farvi vedere solamente come ne siamo usciti ragazzi vorrei solo farvi vedere come ne siamo usciti vi è piaciuto come ne siamo usciti? eh? vi è piaciuto come ne siamo usciti? 3 a 0 signori ola 3 a 0 Liverpool e adesso signori io voglio dare continuità a povedigno facciamo riposare Montiel dentro Mocchiele vorrei farvelo vedere ve lo faccio rivedere così dai ve lo faccio rivedere così per le scuole calcio ripartenza da dietro ho visto che c'era Summerville leggermente libero guardate guardate Arambarri che aveva già capito tutto eh? scuola calcio ragazzi cioè queste sono cose queste sono cose che ormai siete abituati a vedere attenzione povedigno c'è spazio insegue Verratti povede la mette in mezzo c'è Roby esce Allison e li stiamo anche un po' prendendo in giro in questo momento eh? li stiamo anche un po' prendendo in giro eh Franco Armani cosa dici te? te l'aspettavi sto pallonettino? che mi sei uscito sui piedi? Talerone Roberts è 4 a 0 mamma mia non so se Phillips con i codini ha parato anche questa finisce qui signori battiamo 4 a 0 il Liverpool e stacchiamo il Liverpool in classifica oh e si gode oh oh e come se si gode ma sapete una cosa ragazzi? che io questa partitella qua oh Isaac si è arrabbiato cavolo eeeh vabbè questa partitella qui di FA Cup mi simulerei il primo tempo sinceramente e poi subentrerei perchè? devo avere il sederino stretto dai ragazzi spero sinceramente che il prossimo anno qualcosina lo cambino per quanto riguarda la simulazione non è successo nulla raga cioè perchè realisticamente sapete qual è il vero problema? che il tempo di gioco il tempo di gioco passa più veloce ma quello che succede in campo non va più veloce in paragone a quanto va veloce il tempo e quindi chiaramente il tempo va molto più veloce ma quello che succede in campo è praticamente nullo succede pochissimo succede veramente poco perchè è finito il è finito il primo tempo e non è successo nulla non è una cosa non è una cosa credibile non è una cosa credibile va bene rai ragazzi entriamo in campo entriamo in campo ci giochiamo questi ultimi 45 minuti perchè è una roba seria c'è una giard c'è sul mancino su piede forte vai già vai giù è passato in qualche modo l'ha fatto bellissimo e anche un po' a caso che gol di Joe Gellart ragazzi scusate ma non non ho come non ho come da dove è passato da sotto le gambe cioè guardate che come è passato ah non gli ha fatto tunnel e poi guardate il tiro pazzesco veramente un gol incredibile di Joe Gellart ragazzi siamo nel recupero dopo le quattro pappette date al Liverpool un po' di stanchezza ragazzi si è fatta sentire perchè qua sta giocando solamente il Rotteram certo non tira in porta fa possesso palla sterile ma basta così ragazzi basta così un buon 1-0 non è successo praticamente nulla ragazzi guardate che bella parete incredibile fantastica stupenda che ci dobbiamo fare ah beh sì sì ok tranquilli fate come se foste a casa vostra con Romero tanto non si trasferisce nemmeno nemmeno per sbaglio Neutro Coppa ovviamente figurati se in semifinale non potevamo beccare il Manchester City dall'altro lato c'è ehm l'FC Cavolfiore contro AC bu 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 ah no va bene in Champions invece come siamo messi con gli altri risultati perchè Barcellona 3-0 al Napoli il Dortmund 2-1 al United 2-1 al PSG gara al Madrid 3-2 nostro del Sevilla la squadra atletico del Madrid vince per i gol in trasferta quindi passa l'Atletico passa la Juventus contro il Bayern Monaco passa il City contro la Lazio e passa il Liverpool contro il Leverkusen quindi devo dire che ancora ce n'è di stradina da fare ragazzi nel prossimo episodio ci andiamo a giocare questa partita contro il Siviglia vi lo ricordo di nuovo all'andata è finita 3-2 per noi fuori casa quindi un ottimo risultato abbiamo un buon vantaggio proseguiamo poi nel finire marzo con il campionato andremo un pochettino più spediti perchè ragazzi la situazione in campionato è totalmente favorevole a noi quindi magari Southampton e Brighton potremmo anche simularli per andare un pochettino più rapidi simularle oddio il Liverpool ha 30 partite 2 in più di noi e nonostante questo ha 4 punti di distacco quindi ok possiamo permetterci anche magari di simularci solo un tempo signori fatemi sapere cosa ne è passato di questo episodio decisamente un episodio positivo decisamente un episodio divertente vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo alla prossima soltanto la mezza della prossima lasciatemi un commento e consiglio come detto ci vediamo domani con un nuovo video ciao ragazzi